E' stato una frazione di secondi, capita, quando quindi un maledetto furgone. Soprattutto il Moloch, come si sa, è una divinità dei Fenici, dei Cananei, ed era proprio il Dio a cui si facevano sacrifici umani, il Dio che mangiava gli uomini. E quindi noi abbiamo voluto creare questo parallelismo, il capitalismo ci mangia, in un certo senso. Spettacolo al quale teniamo particolarmente, perché è uno spettacolo come gli altri nostri, scritto, diretto, interpretato dal gruppo teatrale Lattrito. Abbiamo iniziato a lavorare a questo spettacolo, il Moloch, già lo scorso anno, e abbiamo deciso di metterlo in scena a fine febbraio, al termine delle manifestazioni per il decennale. Lattrito nasce infatti nel febbraio 2008, compiamo proprio in questi giorni dieci anni di attività... L'amore! 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 Un movimento che ha rovinato intere nazioni, ha fatto soffrire tantissime persone. Moloch, questa figura minacciosa che sovrasta il tutto, è il Moloch del film Kabiria, che è al Museo del Cinema di Torino. Il nostro grido è il rifiuto dell'accettazione, è il rifiuto di accettare l'inaccettabile, di accettare l'inevitabilità della disuguaglianza, della miseria, dello sfruttamento e della violenza crescente.